Mazzarri da solo qui, Mazzarri che sta aspettando qualcuno quindi non è tornato con la squadra Mazzarri non è tornato con la squadra e qui aspetta qualcuno, fuma una sigaretta con la sua valigia ogni tanto un piccolo colpo di fortuna insomma pensavo fosse davanti a tutti, c'era Pondrelli al suo fianco un membro dello staff dei medici del Napoli e poi c'era uno che aveva la somiglianza con Mazzarri, probabilmente era Pondrelli quindi sul pullman con Walter Mazzarri che adesso è qui con una valigia se facciamo un piccolo zoom out grazie a Vittorio che ho fatto girare, rigirare eccetera con la valigia che aspetta qualcuno quindi Walter Mazzarri che non è tornato con la squadra a Napoli probabilmente forse incredibile, no ma devi dire che io ho visto una saga e mi ho detto vabbè mi sembra lui però era impensabile che fosse a quei fori così e quindi poi ho detto vediamo eccolo, eccolo che lascia lo stadio olimpico probabilmente Claudio mi viene da pensare domani è 24 da capire qual è il programma degli allenamenti del Napoli verso il Monza però è pensabile anche che appunto l'allenatore trascorra in famiglia le feste e poi vada magari semplicemente sì magari passare sì passare magari la serata e la mattina di domani in famiglia e poi domani allenarsi e rientrare probabilmente è così intanto ecco lo Walter Mazzarri che si allontana chiaramente sicuramente lascia l'olimpico non con il Napoli abbiamo visto i pullman non eccolo un taxi che probabilmente c'è un taxi c'è un taxi qui quindi praticamente praticamente verrà qui praticamente verrà qui sto aspettando un taxi Walter Mazzarri adesso ovviamente non lo disturbiamo sapete non disturbiamo chiaramente Walter Mazzarri mister solo auguri di buon Natale grazie a tutti grazie a tutti